Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere le regole del successo di una delle più grandi star della NBA, Michael Jordan. Si tratta di concetti molto semplici e pratici che insegnano come avere successo in tutto quello che intendete fare nella vostra vita. Cominciamo subito. Numero 1. Lavora duramente. Gli allenatori di Michael Jordan dicono che sia quando giocava a basket che quando ebbe quella breve esperienza nel baseball fu sempre il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andare via. Lui era veramente ossessionato con l'allenamento e se avete visto il suo documentario The Last Dance, anche i compagni di squadra, i suoi ex compagni, evidenziavano questo punto dicendo che spesso diventava troppo esigente anche con loro, diventando addirittura insopportabile per molti di loro. Lui esigeva che tutti attorno a lui dessero il massimo. Numero 2. Accendi il fuoco dentro di te. Jordan dice che si sentiva imbattibile, sapeva quello che voleva, ci credeva ed era sicuro che niente sarebbe stato in grado di fermarlo. Numero 3. Sì diverso. Lui puntava a superare Magic Johnson e lo usava come motivazione per dare il massimo. Voleva però essere lui il migliore di sempre e voleva essere ricordato per questo. Numero 4. Fallisci la tua strada verso il successo. Jordan sottolinea le 300 sconfitte in carriera, 26 volte fallì il tiro decisivo per vincere la partita. Lui dice, ho fallito continuamente e questo è il motivo per cui ho avuto successo. Il progresso si misura con la quantità di errori fatti. Se non sbagli non cresci e non migliori. Numero 5. Abbi aspettative grandi. Non compiacersi mai di quello che si è raggiunto. Porsi grandi obiettivi per migliorare ed ottenere sempre di più. Si può sempre migliorare a prescindere dal grado di successo che si ha. Numero 6. Sì positivo. Jordan dice che una delle lezioni più importanti che ha ricevuto fu proprio dal padre che gli disse prendi un'esperienza negativa e trasformala subito in positiva. Le cose negative capitano e capiteranno a tutti. Bisogna imparare a conviverci e accettarle andando avanti per la propria strada. Numero 7. Diventa la persona che sei destinato a diventare. Ogni persona deve scoprire i propri talenti e cercare di raggiungere il suo massimo. Deve cercare di ottenere il massimo dalla vita. Numero 8. Abbi una visione. Qui entra in gioco l'immaginazione. Immaginate dentro di voi di aver già ottenuto quello che volete. Provate a sentire la gioia di quel successo. E questo vi spingerà a dare il massimo per riuscire ad ottenerlo realmente. Numero 9. Non cercare scuse. Dai sempre il massimo. Non dare la colpa agli altri per le tue sconfitte. Rimboccati le maniche e cerca di vincere la prossima partita. O la prossima sfida. Numero 10. Allenati duramente. Se ti alleni sempre per il momento decisivo, quando arriverà quel momento, tutto accadrà naturalmente perché ti sei già preparato per questo. E questo vale per qualsiasi campo della vita, a prescindere dal lavoro che si fa. Se vi allenate e vi esercitate in continuazione a fare bene la vostra professione, tutto avverrà in modo naturale. Queste erano le regole del successo di Michael Jordan. Parliamo di regole che hanno contribuito a rendere Jordan una delle leggende dell'NBA e dello sport in generale. Un successo che continua a dargli grandi benefici finanziari anche oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!